Buongiorno Io avrei bisogno di un longboard Un longboard di che tipo? Non lo so Le faccio vedere Abbiamo dei longboard molto belli La tecnologia innovativa Soprattutto nel 2020 Se ci sono sempre stati di Azzurravese Della Madrid Una costruzione innovativa Perché hanno messo praticamente delle ruote Con una mescola speciale E rivoluzionale Solo quale robot shop abbiamo? Ok ma Cioè nel senso Io non sono molto esperto Lei si fidi di me? Mi fido Va bene Ok Io avrei bisogno di uno snowboard Ma cosa vuole lei? Lo snowboard Guardi io non ho tempo adesso Vengo un'altra volta Eh Vabbè scusa Arrivederci Io avrei bisogno di un longboard Ciao buongiorno Benvenuto Benvenuto all'amore shop Mi fa piacere che sei venuto qua a venireci a trovare Grazie Ma che bello Ma chi è che ti ha mandato? Sono proprio contento di vederti Ciao Un mio amico No ma questo non ci interessa Però sono contento di essere venuto a trovarci Va bene Troverai bisogno di un longboard Andiamo a vedere un longboard Va bene grazie E ti piace il nostro negozio Bello Sì 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 Grazie Sono contento che ti trovi bene qua Sì sì Mi piacciono i vestiti Tutto Grazie Grazie Buona giornata Grazie Buona giornata Che le starà sicuramente bene La esalta La fa molto molto bella Perché lei è già una bella persona Grazie mille Grazie Andiamo a vedere Le faccio vedere Allora abbiamo delle cose veramente Veramente belle Secondo me Lei Questo qua le dona da Dio È una cosa per lei È una cosa La valorizza Lei è già un bell'uomo Ma così è ancora più bello Guardi Guardi come ne sta bene Lei è bellissimo È bellissimo È bellissimo Va bene? Avrei bisogno di un paio di vans old school Guardi Ne avevo qua fino a un'ora fa Però Se aspetta Settimana prossima Lo ritrovo di sicuro Guten Tag Ich brauche Ein GoPro In Mein Deutsch Ist GoPro Kein Problem Alltså Di GoPro Ja Ja To film Video Ah For In In English Ja In English I don't know No speak German In English Just a little bit Ok Buongiorno Salve salve Passo le tatti No grazie No Passo le tatti No Guardi L'ho detto prima Va bene così Gentilissimo Grazie della disponibilità Però Posso aiutarti Ascolti ora mi ha rotto davvero Ha capito? La sventa Per favore Grazie Ora che ho bisogno di qualcuno Dov'è il proprietario del canale? Eccomi Ciao Ciao Allora è stato bellissimo Ci siamo divertiti tanto Perché Lui si è prestato molto bene Per fare il cliente medio E io invece ho fatto Il negoziante medio Un po' rompipale Infatti cosa fai L'ultimo è stato Abbiamo diviso la nostra collaborazione In due parti Qui appunto c'è Dieci tipi di venditore Sul mio canale Lo trovate qui in descrizione Il link Ci sarà dieci tipi di clienti Esattamente Ci siamo divertiti davvero tantissimo E presto faremo altri video insieme Anche di sport Esatto Guardate che pezza Che petto Niente ragazzi Io vi invito a iscrivervi al mio canale Che lo trovate qui Qua sopra Un momento si Qua sopra E seguite me Che io son giovane Invece Swamp è un po' più testato Più vecchio anche Più vecchio Youtube parlando Io più vecchio anagraficamente parlando Va bene vi ringrazio tutti Ciao da parte mia Emerald Da parte di Swampy Ciao ragazzi Ciao a tutti